È insostenibile perché abbiamo ormai certificato anche con fotografie e con filmati che non si tratta comunque di, come dire, delle comparsate una tantum. Sono diventati quasi dei veri e propri diritti acquisiti. Borse griffate, portafogli e cinture, un gran bazar su cui nessuno punta gli occhi, tranne i commercianti del centro, che oltre ad aver puntato gli occhi ora puntano anche i piedi parlando di situazione non più tollerabile. Per rispetto nei confronti dei tanti esercenti onesti e delle tante persone che lavorano rispettando le regole. Commercianti ambulanti costretti a seguire i regolamenti con il metro alla mano. A loro appunto arriva la contravenzione puntualmente perché hanno trasbordato di mezzo metro per ciò che riguarda l'occupazione solo pubblico e il plateatico. Ma oggi Pellizzari e i suoi iscritti sottolineano come un video della scorsa campagna elettorale svelerebbe quali fossero già all'epoca i programmi della Giunta. In un filmato stile cartone animato compaiono infatti dei venditori abusivi, delle immagini che per i commercianti rappresentano un vero e proprio oltraggio al punto di invitare sindaco Giordani e vice Lorenzoni ad una vera e propria richiesta di scuse. È sicuramente raccapricciante perché si tratta di una vignetta disegnata, disegnata probabilmente, è stata commissionata dallo stesso Lorenzoni che poi ha pubblicato e dove si vede in maniera chiara l'isola Memia con due venditori abusivi. Bisognerebbe spiegare a Lorenzoni che la vendita abusiva è penalmente perseguibile oltre ad essere un illecito amministrativo. Questa è la padova che sogno era il titolo del video incriminato. Grazie a tutti.